Il Nutrimente è un progetto sperimentale che ha visto un'attenzione dedicata a un gruppo, un controllato di pazienti volontari e per un periodo di tempo, ma la sua origine per quanto riguarda l'Antropos è antica, almeno 10 anni, perché abbiamo iniziato a occuparci di prevenzione attraverso l'alimentazione, sia per l'obesità infantile, quindi lo sviluppo delle malattie, disturbi alimentari, sia per quelle neurodegenerative come le demenze e l'Alzheimer. L'alimentazione a chilometro zero, quello che oggi si chiama chilometro zero, in realtà che rispetta gli alimenti della stagione e la cottura anche che mantiene le proprietà degli alimenti, ma soprattutto la condivisione di questo percorso insieme per chi ha delle patologie severe, insieme a delle obesità severe e la chiave di volta per poter iniziare ad affrontare serenamente questo problema. Del resto l'obesità nel paziente psichiatrico e non solo, anche il grave obeso diventa un paziente psichiatrico, questo voglio ricordarlo perché l'Associazione dei pazienti psichiatrici obesi di Roma me l'ha ricordato, mi hanno detto noi obesi abbiamo anche qualche problema nella mente, quindi dovete aiutarci. Quindi senz'altro l'alimentazione è un elemento, ma la consapevolezza di quello che si mangia e perché lo facciamo e come lo facciamo e soprattutto la condivisione nel gruppo di momenti anche di vita sana, quindi una semplice passeggiata, così come una bella nuotata, hanno condotto il nostro gruppo di ricerca di professionisti ad approfondire l'argomento e i risultati sono stati abbastanza onorevoli, dico perché è ovvio che è un gruppo di 20 persone per nove mesi, ma l'elemento che ci ha rinforzato è appunto la lettura dei risultati anche clinici metabolici che sono stati elaborati dall'IRCS di Castellana Grotte, proprio per non inferire sui risultati. Quindi è un campo su cui noi già lavoriamo, per cui continuiamo a lavorare e che speriamo possa generare una formazione dei medici, dei biologi, degli psicologi di attenzione alle cure anche psichiatriche e degenerative attraverso una consapevolezza maggiore di ciò che mangiamo e di come ci alimentiamo.